In diretta alle 7 del mattino, come tutte le giornate, tutte le mattine siamo qui per la rassegna stampa, occhio ai giornali, che comincia anche oggi con il santo del giorno e le previsioni del tempo. Il santo di oggi, lo vediamo subito oggi, è Sant'Agnese di Bohemia. Il sole è sorto alle 6.47 e tramantorà un minuto dopo le 6 del pomeriggio. Il bollettino della protezione civile delle marche di oggi prevede il cielo sereno poco nuvoloso, attenzione alle gelate anche nei fondovalle e lungo la fascia costiera. Per domani, mercoledì 3 marzo, ancora cielo sereno poco nuvoloso, attenzione ancora alle gelate ma anche ai banchi di nebbia nelle ore più fredde. Giovedì 4 marzo cielo sereno su tutta la costa adriatica, temperature in aumento in particolare nei valori massimi e poi una perturbazione che porterà peggioramenti nel fine settimana. Iniziamo a vedere i giornali. Allora, Corriere Adriatico, vaccini ai prof, falsa partenza, titolo d'apertura, il sistema va in tilt, saltano le prenotazioni al Codma, a Fano e il debutto ufficiale slitta oggi al Monaldi di Pesero. Frontalieri, c'è l'accordo con San Marino per lo Sputnik, adesso si aspetta il sì del ministro Speranza. Centropagina, Rossi e Morbidelli, doppia sfida, MotoGP presentato il team Petronas e poi l'intervista a Francesco Merloni, sono stato ministro, dice ora servono professionisti. Pescheria a Pesero nasce super fondazione tra le polemiche, poi il rapporto della DIA, distretto antimafia, focus su infiltrazioni legate al riciclaggio e l'intervista che il Corriere ha realizzato con il Vescovo di Fano Trasarti, negativo al Covid, crediamo, dice il presule nella vita. Dateci, datemi invece la cittadinanza così posso assumere, è l'appello disperato dell'armatore albanese Rion Shabanai in Italia da 15 anni, la burocrazia blocca il lavoro, per lui nei suoi confronti anche generosità. Così posso assumere, dice l'armatore albanese. Il Carlino di Pesero, ricorso al TAR contro le scuole chiuse, il provvedimento della regione finisce in mano ai giudici, a Cuaroli paradossale in questa situazione, mentre a centropagina i vaccini, nessuno spazio per il personale scolastico, la partenza è stata dunque disastrosa, gli over 80 scalzano i prof il titolo. Il caso delle torri, i costruttori vinsero anche un ricorso, l'ex consorzio, l'inchiesta in retroscena, poi il cantiere navale sopra il luogo della Capiteneria. Poi la stretta, c'è l'ipotesi, zona rossa per l'Anconetano e il Maceratese, mentre riaprite, pediatria, ho avuto paura per mio figlio, è l'appello di una mamma che è stata costretta da Pesero a raggiungere Fano. E a Fano è stato arrestato invece per due volte in poche ore un giovane di 18 anni. Sotto di taglio basso, sempre dalla prima del Carlino, il porto è insabbiato, a Gabicce e Cattoli che i pescatori protestano, mentre lo Sport, sei trasferte su dieci, adesso i palas vuoti sono alleati della VL, quattro con le pericolanti. Andiamo a vedere il Carlino di Ancona, centropagina, vaccini, i prof subito bocciati, caos nelle prenotazioni per un errore nella piattaforma, solo cinque dosi su 70. Il sindaco invece Mancinelli, chiudo tutte le scuole, troppi contagi, stop da oggi al 14 di marzo, ricorso al TAR contro la Regione per tornare in aula. Andrea Taffi sul Corriere Adriatico, Acquaroli corre ai ripari, Ancona metà e metà macerata, più rosso che Arancione scuro, dunque tecnicamente siamo in bilico, siamo in bilico tra la zona arancio rinforzato e la zona rossa, praticamente invece nella provincia di Ancona in metà di quella maceratese sarà bene prepararsi alla zona rossa. Oggi il governatore Acquaroli firmerà l'ordinanza che dai prossimi giorni attiverà le misure estreme. L'impennata dei contagi, questo è il problema, più del 50% dei contagi per contagi esintomatici nel raggio di sette giorni significa che per la legge dei grandi numeri sta per arrivare un'altra ondata di ricoveri ospedalieri in tutta la Regione Marche. Questo è matematica, matematica pura. Strutture già ormai al limite, al limite dei ricoveri e stabilmente sopra le soglie di saturazione. La soglia è quel famoso 30% di cui abbiamo parlato per le terapie intensive e 40% per i degenti nei reparti delle malattie infettive. Dunque è un po' come ricominciare, e scrive giustamente Andrea Taffi questa mattina, è un po' come ricominciare tutto da capo in sostanza. A distanza di un anno, dopo un anno, Ancona e metà macerata ripartono dal punto di partenza, dall'inizio, ovvero dal lockdown totale, la zona rossa. Covid, l'avanzata non si ferma, 446 positivi, pronta la zona rossa per l'Anconetano. Il governatore Corori rompe gli indugi, situazione davvero difficile, durerà almeno una settimana, solo in provincia 295 casi sul totale. Sono 4.502 le persone attualmente con il virus in tutto il territorio provinciale di Ancona, numeri che sono però destinati ad aumentare. Le restrizioni, stop a scuole, negozi, ristoranti bar, ci si sposta solo nel proprio comune. Intanto il tragico bollettino delle morti ieri, delle ultime 24 ore, 16 decessi. Dalla pagina del primo piano delle Marche del Corriere, pagina 3, falsa partenza per i docenti, vaccini, da oggi si va a regime, medici di base fumata a grigia, si cerca l'accordo per la somministrazione delle dosi agli over 80, soprattutto a casa, quindi a domicilio. Il ricorso al TAR del Comitato, no al decreto scuole aperte. L'azione di un gruppo di genitori, vogliamo lezioni in presenza. La pagina di Fano invece del Corriere Adriatico. Lorenzo Furlani ha intervistato il Vescovo di Fano Trasarti. In corsia ci mettono l'anima, crediamo sempre nella vita. Il Vescovo è tornato negativo al Covid, parla dell'insegnamento dall'isolamento e dai sei giorni che ha trascorso in ospedale. Quest'anno per la pandemia viviamo una penitenza razionale che sì, è importante, però lo sguardo deve essere sempre sulla Pasqua che è il trionfo della vita. La situazione di chi è chiuso in camera senza ricevere visite da fuori è delicata anche sul piano psicologico. Di taglio basso, sempre sulla pagina di Fano, la Giunta limita le prerogative delle amminoranze, Accordi Quadro, Movimento 5 Stelle, Lega e Fano Città Ideale, contro l'esclusione dall'incontro. Mentre il Covid-19 rafforza la BCC, la Banca di Credito Cooperativo, siamo sempre sulla pagina di Fano del Corriere, l'utile è aumentato del 12%. L'Istituto di Fano chiude il 2020 con dati in crescita anche per clienti e dipendenti. Sotto invece pare opportunità, dopo un anno si riparte da zero, dopo la revoca dei lavori all'azienda giudicataria, nuovo incarico per il centro. La notizia, non so se dire buona o cattiva, a seconda dei punti di vista, personalmente la ritengo comunque buona, bimbi in classe stop all'obbligo di mascherine. Il Consiglio di Stato blocca la misura del Governo. Nel prossimo DPCM va approvato che l'uso non sia dennoso per gli Under-12. Il verdetto riguarda il caso di una bimba con problemi di salute per via appunto del dispositivo. Ancora dai giornali, siamo sulla pagina di Urbino, la storia di Sara Fedrigucci, che è una giovane medico urbinate, che da novembre presta la sua opera tra tamponi e vaccini. E lei dice bisogna tenere duro, io laureata in Era Covid, così aiuto i pazienti, devi dare forza alle persone che sono in quarantena oppure positive. Sotto fermate eliminate, sempre da Urbino, ecco Nuovo e Pensiline, sono partiti i lavori che porteranno alla realizzazione delle strutture. Da Vallefoglia invece facciamo tutti uno sforzo, l'obiettivo è la zona bianca, dice Palmiro Occhielli, che lancia un appello e poi dell'assessore Ciaroni che invitano alla cautela. Insomma, certo la zona bianca, parlare di zona bianca in una regione che invece è più verso il rosso, siamo ancora molto lontani da quello che invece sta vivendo la Sardegna, che insomma è in zona bianca come avevamo visto, e stanno festeggiando il ritorno quasi alla normalità. Poi una borsista per la Proloco di Monbaroccio, Deborah Marinoni, è già operativa, in carico per lei di sei mesi. Solo un positivo all'ospedale di Urbino, collaborazione viva con il territorio, strategia sanitaria, l'assessore Foschi, al lavoro per il concorso del primario del pronto soccorso, mentre sotto, sempre dalla pagina di Urbino, frazioni senza medici, gambini toppa in casa, dem e moderati all'attacco. Non sapeva, dicono, che per legge ci fosse l'obbligo di pensione. Da Senigallia invece SOS Covid, elementari sorvegliate speciali, sulle chiusure si valuterà giorno per giorno, diverse scuole hanno già inviato i moduli per la didattica a distanza, proseguono i controlli e scattano 15 molte. E poi una preghiera per Fahad, morto di Covid, la salma del 29enne verrà rimpatriata oggi in Bangladesh. Dal Carlino, Senigallia, Covid, rafforzati i controlli, fioccano le multe, i carabinieri hanno sanzionato 15 persone, soprattutto perché non utilizzavano le mascherine, o si trovavano fuori dal loro comune. Sotto il contagio avanza, l'arancione non basta, nell'ultimo mese numeri a Senigallia raddoppiati, nonostante le restrizioni non accennano a diminuire i positivi nei vari comuni. A Senigallia sono 372. A Fano, il Carlino, arrestato due volte in poche ore, giovane su di giri, aggredisce i poliziotti alla Rocca, poi evade i domiciliari, viene bloccato, ieri la condanna. Si tratta di un diciottenne fanese, già noto, scrive il giornale, alle forze dell'ordine. Ha colpito un agente. Dopo il processo per direttissime, in cui ha patteggiato, poi è tornato nuovamente libero. C'è un problema invece di organico alla Polizia Locale di Fano, mancano gli agenti, l'assessore però rassicura, per Stefano Pollegioni, fondatore della lista civica Nuova Fano, la carenza di agenti della Polizia Locale nell'imminente stagione estiva, potrebbe sovraccaricare di lavoro le altre forze dell'ordine. Ha restato un diciottenne violento, chiuso per cinque giorni in bar del centro storico. Il giovane è coinvolto nell'assembramento alla Rocca, il caffè invece delle scienze è trovato operativo dopo le 18 di sabato. La Polizia di Stato, mobilitata contro il vandalismo e per far rispettare le norme Covid. A Colli al Metauro invece, locale da ballo fuori norma, sospesa la licenza, blizze dei carabinieri a Colli al Metauro, tanti i contagi tra i giovani. A Fossombrone, addio a Guarducci, paladino dell'ospedale. Fossombrone se n'è andato l'ex funzionario del Partito Comunista Italiano. Il funerale si terrà questa mattina alle 10 alla chiesa di Maria Ausigliatrice. A Cagli invece, nella casa di riposo comunale Asp, Catria e Nerone, ospite novantenne, vola con la carrozzina dalle scale e muore. aperta un'inchiesta. Ha visto la porta che si apriva un minuto dopo una novantenne della casa di riposo costretta a rimanere in carrozzina e volata giù dalle scale battendo violentemente la testa. Ieri mattina, dopo circa 20 giorni di coma, è morta. Si chiamava Zita Speranzini ed era di Cagli. Urbagna della Rovere si impara all'aria aperta. questa è una notizia che trovate sempre sul resto del Carlino. E poi da Pesero invece a pagina 5 la storia di questo ristoratore Sauro Lani del Cigno Bianco, uno dei ristoratori forse più arrabbiati che dice, lo ha detto anche al nostro telegiornale ieri sera, non ne posso più, se continuo così io mollo. aspetto due mesi e poi decido, ma così non si può andare avanti. Io ho sempre rispettato le regole, poi vedo che in giro, però, in giro succede praticamente di tutto. Multe anti-Covid, 63 nel fine settimana, 6 locali chiusi per 5 giorni, sono state fatte sabato scorso, 28 multe ai fini anti-Covid, 35 domenica, controllate, 543 attività con la contestazione di 6 leciti ai relativi titolari a cui è seguita la chiusura per 5 giorni dell'attività. Questo è il resoconto che troverete sul Carlino di Pesero. Tornando sul Corriere, Pescheria nasce la superfondazione, gestirà la cultura e avrà due direttori, il vice sindaco Vimini parla di grande occasione, il centro-destra dice no risorse senza controllo, sì in consiglio tra le polemiche alla modifica dello statuto. Mentre sul Carlino, pagina 7, si parla ancora delle torri al porto, il porto di Pesero, tar e capitaneria di Serosi, sorprendenti, retroscena di un pasticciaccio, saranno i tre super testi scelti dal GIP a cercare di capire qualcosa per uscire dall'impasse che ha portato al blocco del cantiere. Lunga ispezione, intanto ieri mattina il cantiere Navale Rossini, porto, sopra luogo effettuato dalla Capitaniera e non solo, dopo la richiesta di variante riguardante la costruzione dei cappannoni per la verniciatura degli yacht. Parliamo adesso invece, e questo lo fa il Corriere a pagina 13, di infiltrazioni mafiose legate al riciclaggio, ma allerta anche per lo spaccio. Si parla di un rapporto semestrale della Direzione Investigativa Antimafia, la famosa DIA, con un focus sulla provincia di Pesor Urbino che riguarda infiltrazioni legate soprattutto al riciclaggio di denaro. Secondo quanto scrive la DIA nel dossier appena uscito nella provincia di Pesor Urbino sono state rilevate e accertate presenze di elementi collegati alle cosche calabresi e campane dediti al riciclaggio e allo spaccio di stupefacenti. Da registrare l'operazione di settembre con nove arresti a Reggio Calabria con la confisca anche di un terreno edificabile anche nella provincia di Pesaro e con un terreno confiscato a frontone. Andiamo sulla pagina invece 22 della Valmetauro Ecomuseo, il progetto culturale con il lavoro di 31 professionisti finanziato, finanziamento della Regione per Fano, Fossombrone, Acqualagna e Colli al Metauro mentre sotto addio l'animatore di tante battaglie civili stroncato dal Covid, Paolo Guarducci sempre in prima linea per l'ospedale di Fossombrone l'ultimo saluto alle 10. Acque bianche fino al mare per arginare anche gli allagamenti siamo a Mondolfo dal Ministero dell'Interno quasi 1.400.000 euro per realizzare un nuovo scarico per tutelare l'Adriatico l'obiettivo è separare dal flusso i reflui da portare al depuratore. Bambina con il tumore rilanciata la colletta Sorcinelli di San Costanzo aderisce all'appello del sindaco di Fermignano. A Marotta più di un milione per arginare gli allagamenti sul Carlino Marotta Nord un ricco finanziamento per realizzare un nuovo scarico a mare su via Corfu così da separare le acque chiare dalle acque scure. Variante inglese 4 casi e contagi in su stretta sui controlli positivi molti giovani a Colli al Metauro l'amministrazione dispone l'aumento di pattugliamenti della polizia locale a decidere maggiori verifiche è stata l'amministrazione di Colli al Metauro dopo la riunione della commissione comunale Covid formata dall'assessore alla sanità Anna Chiara Mascarucci che vedete nella fotografia e dai consiglieri Francesco Tadei e Fabrizio Valeri sotto invece a Pergola internet veloce entro l'estate pronta la banda ultralarga l'annuncio del consigliere Marchetti iniziati i lavori di cablaggio collegamenti per quasi 4000 abitazioni lo sport con la nuova era di Vale il titolo per vincere ancora inizia l'avventura di Rossi Yamaha Petronas a fianco del grande amico Morbidelli l'ennesima sfida di un campione eterno quest'anno insomma Valentino Rossi ha 42 anni non ha ancora deciso se quella che prenderà il via sarà la sua ultima stagione comunque avrà un super team intanto vedete qua come è andata per lui a partire dal 2002 quando gareggiava con la Honda fino al 2020 insomma nove titoli ne manca una chissà che quest'anno sia la volta buona e intanto noi ci fermiamo qui grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata vi do appuntamento a questa sera alle 20 e 30 con il telegiornale Occhio alla Notizia e vi ricordo che alle 21 avremo Guarda chi c'è con Luca Guazzati intervistato da Paolo Notari Luca Guazzati è un giornalista scrittore è tutto arrivederci a presto a presto a presto Grazie a tutti